Allora, mio nonno, purtroppo è una nocca come si fa, fino a fine anno, anzi per i primi mesi del 2021 lui faceva tutto quello che era possibile, cioè nel senso usciva, giocava con noi, poi all'improvviso andava sempre peggiorando e l'abbiamo perso subito. Mi ricordo che diceva tanto Vito vince, tanto Vito vince, lui era sicuro, magari io no, però lui era sicuro, alla fine c'ha avuto ragione, questa metà nemmena davvero la devi con lui perché quando ci pensano poi gli anni vedevo le foto e mi mancava troppo, cioè.